Un'altra rapina cruenta per le strade della nostra regione, questa volta a Campi Bisenzio, dove il titolare del barangar lungo la via Barberinese è stato rapinato nelle scorse ore dell'incasso giornaliero di 5.000 euro in contanti due gli uomini ad assalire il titolare, minacciato dal taser. Un colpo molto probabilmente studiato al dettaglio. I malviventi infatti hanno aspettato la chiusura del locale e che il proprietario raggiungesse la propria auto parcheggiata qua vicino e qui l'hanno derubato di tutto, i soldi, il cellulare e le chiavi dell'auto con la quale sono dileguati. Insomma dopo quella in provincia d'Arezzo continuano in tutta la Toscana le scorribande di ladri armati di taser.